Il sindacato dei giornalisti RAI che lancia un allarme ai cittadini e a tutte le forze politiche e sociali le scelte del vertice aziendale mettono sempre più a rischio la sopravvivenza della RAI In questi ultimi mesi il servizio pubblico ha visto l'uscita di molti noti dell'azienda la chiusura di tre...